Allora, 100% l'acquisto migliore che voi possiate fare nella vita sono le calze tecniche per non farvi esplodere i piedi di besciche Perché potete camminare l'infinito e non vi succederà nulla Cosa definisce una calza tecnica rispetto a una calza non tecnica? Costa di più da Decathlon È una calza con la droga che non ti fa sentire la fatica 100 siringhe con gli antidolorifici piattate nel piede Esatto, in realtà sono tessuti di occhi che tu vai a calzare No, tra l'altro, aperta parentesi, questa cosa è valida a quanto pare solo per me Perché tra le 5 persone che ci siamo messi in cammino, che abbiamo trovato lungo la stade eccetera Sono l'unico che non si è sbonnato i piedi di besciche Hai aperto una parentesi prima ancora di rispondere all'unica cosa che ti avevo chiesto Come puoi riuscire a divagare così tanto? Sono tornato, goodbye Parentesi, l'inventore della parentesi è Giovanni Parentesi Che visse una vita in cui non riusciva a fare le cose che voleva fare Perché apriva delle parentesi? No, veramente, cioè, voi pensavate che fosse una gag iniziale Ma cioè, come sono le calze? Cioè, come sono diverse le calze tecniche? Perché dovrei saperlo? Ma chi ne sa? Volei usate! Eh no, ma questo non vuol dire che io sappia che cosa sono C'è una persona che mi ha detto Ehi, se non metti queste non cammini E io ho detto, sì persona E aveva ragione quella persona Ma sono tipo le calze da corsa che comprimono tantissimo? Allora, sì Ah, potrebbe avere senso Però penso che tipo comprimono in maniera magica sotto i piedi Anziché solo intorno al polpaccio Ok Cioè, il piede non ha lo spazio di generare delle vesciche Perché è talmente compresso Che una vescica non può nascere una roba del genere Penso di sì Qualcosa del genere Ok, è di sicuro questa la science dietro le calze Infatti non ti vengono le vesciche ma ti si spezzano tutte le dita Bentornato su Power Pizza Bentornato Nick Bentornato su Power Pizza A Nick, io Lord Nick di Glenco Ciao Nick E anche a voi che la settimana scorsa c'eravate Ciao amici, mi siete mancati tantissimo Quante pizza avete mangiato? Una Io ho mangiato una pizza ieri sera e due fette della pizza di mio figlio Perché gli ordiniamo sempre una anche lui È il proverbiale rubare il pane di bocca Tranne che è pizza Sì Che è pane Il pane della pizza Esatto La questione è che lui mi ha chiesto Mi ha chiesto papà posso essere malnutrito E non sono le voci nella testa di Sio perché voleva due fette di pizza in più No, gli ho detto cosa vuoi da mangiare sulla pizza E lui mi ha detto brum brum garage cose non so Ha detto dei discorsi suoi Quindi ho detto vabbè te la ordino io una pizza So che ti piacciono sempre i funghi E ovviamente gli ero presa coi funghi E c'era la rucola sopra che lui odia E i funghi che a quanto pare lui odiava ieri sera E quindi poi gli ho tolto tutta la roba da sopra E poi l'ha mangiata Nice one Invece chiedetelo a me per favore Chiedetelo a me Vabbè possiamo iniziare con i grissini Ti prego chiedetemi quante pizze ho mangiato dall'azione Quante pizze hai mangiato Ok quante pizze Allora nelle ultime due settimane ne ho mangiate quattro Perché camminare sulla via francigena in Toscana Ti porta tipo ad esplorare paesini come Abbadia Isola Che ha un convento e un arci E giustamente la guida ti dice Se arrivi in tempo all'arci ti danno da mangiare Peccato che all'arci ci fosse solo una vetrinetta Con dei prosciutti e mortadelle dell'anteguerra E tipo il formaggio che cambia colore Da quanto è invecchiato E abbiamo convinto un tizio Perché lì c'è l'abilità vera Abbiamo convinto un tizio a prendere la macchina Andare in una pizzeria Prenderci delle pizze e riportarcele Perché giustamente ci ha detto Ragazzi tranquilli Due chilometri e mezzo c'è una pizzeria Potete andare lì E noi abbiamo detto Ne abbiamo fatti 31 Siete i peggiori pellegrini che esistono Cioè un vero pellegrino avrebbe Dormito nella pizzeria Esatto Un vero pellegrino avrebbe risposto Grazie al signore che ti benedica Al tizio che gli portava le pizze basse È la stessa cosa che avete fatto voi La cosa importante è che due sere fa Ho mangiato una pizza Tornato qui a Milano E udite udite Non è una marinara Con le melanzane Perché ho trovato una nuova pizzeria La via francigena l'ha cambiato così tanto Che ormai è irriconoscibile C'era sopra la Francia Il viaggio interiore che ho attraversato È incredibile No, ho preso una pizza Con il pomodorino fresco tagliato a fette I carciofi e le patate Ed era media Quindi tornerò a mangiare La mia marinara con le melanzane più buona Sembrava buona però Era bianca? Bianca nel senso che non aveva niente C'era l'impasto sotto Ah, è tipo schiacciata con quelle cose sopra Sì, esatto Ok, ok Sono entrato in questa pizzeria Perché Zombieland Che è Milano ad agosto È tutto chiuso Che bella Milano ad agosto, madonna Sì, solo che non la vede nessuno Cioè non esiste È una leggenda È un miraggio È uno dei pochi ricordi belli Che ho di Milano Milano ad agosto Cioè proprio mi piaceva un sacco Vedere la deserta Comunque scusa, vai avanti Quando non è Milano, ok No vabbè, questo tizio mi fa Abbiamo noi una pizza vegana in lista Che è buonissima Solo che me l'ha fatta pagare È una svangata E quindi ho detto Mai più Signor pizzaiolo Ma in teoria le pizze vegane Non dovrebbero costare di meno Perché hanno letteralmente E quello Cioè esatto Meno cose E le cose meno costose Come fai a farla pagare di più A fianco c'era una pizza Con gorgonzola Friarielli Salsiccia E l'anima degli mortacci Di tutti quelli presenti nel quartiere E comunque costava uguale Alla mia tipo Poverina Con due patate arroste E un carciofino sopra Quindi male Ah, le patate arroste Vabbè ma non dovevi Cioè, dovevi dirlo Che c'erano le patate arroste Ha usato il microonde Tra i carciofi e le patate È noto Che siano le patate A costare molto Allora Grissini Basta bagianate Per l'amore del cielo No, ancora bagianate Sono belle le bagianate Vidi Gulfo Scrive Proposta per Sio Sono io Ti prego Chiamali assaggi Anziché impizioni Impizioni è bellissimo E in più aggiunge PS Timlor Impizioni No, impizioni va a schifo Fai, assaggi Tipo un miliardo di puntate fa Non avevamo già detto qualcosa Tipo che appunto Eh, ma evidentemente Non si era affermato Perché se non ce lo ricordiamo Vuol dire che non ha funzionato Non aveva preso piede, ok Era solo un work in progress Impizioni E ora canon Prime impizioni No, la questione La questione è che Vedremo la prossima volta Che parleremo di qualcosa Come prime impizioni Se ci ricorderemo Di prime impizioni O se ci inventeremo Un altro nuovo simpatico nome Spoiler Io punto sulla seconda Comunque Anch'io Tra l'altro A proposito di prime impizioni The Trattino Privata dal sonno Dice che ha dovuto Mettere la puntata in pausa A causa di contrazioni Sì Sono incinta E a termine Perché non potevo Ridere in contemporanea Hashtag Team Gravidanza Wow Ho chiesto A una consulenza Ostetrica E mi ha detto Che ridere Fa benissimo Per partorire Quindi Consigliate a tutte Le persone Che devono partorire Di ascoltare Power Pizza Wow Esatto Wow Ci stiamo espandendo In target Che non avrei pensato All'inizio Wow Fantastico Ma tra l'altro State attenti A non ridere troppo Perché potreste partorire Esatto Deve essere una cosa Oculata Esatto Magari siete ancora Al quinto mese Occia ad ascoltare Power Pizza No no Ma non se siete gravide Proprio cioè In generale State attenti Tutti e tutte Ad ascoltare Power Pizza Perché potreste partorire Attenzione Esatto E soprattutto Benvenuta Nuova persona Figlia di un'ascoltatrice Di Power Pizza Quindi Già Parte con La quarta Un qui Altissimo Sì Cioè Che fortuna Nascere Da una famiglia Che ascolta Power Pizza Bellissimo Complimenti No ma poi Tra l'altro Non c'erano quegli studi Farlocchi Dove se fai ascoltare La pancia Quando sei incinta Tipo il jazz Il pargolo diventa Un fenomeno Facendogli ascoltare Power Pizza Diventa un imbecille Incredibile No 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 Allora devo censurare Questa frase Senta simpatico Nick Non rompere le palle Prossimo gressino Dinale ci scrive La mia compagna Spegni quel coso Hanno voci fastidiose E ti fai sempre condizionare Da quello che dicono Sempre la mia compagna Dove andiamo in vacanza? Io Lanzarote Scaccomatto Hashtag team pipipi Spero che questa cosa Sia successa davvero E spero che voi siate A Lanzarote Per favore andate a mangiare La pizza Ha il posto che abbiamo detto Che era molto buono Un po' sono contento Un po' mi preoccupa Che adesso ci siano Cioè Power Pizza Si collochi In queste dinamiche Conflittuali di coppia E avevano di continuo Grissini Tipo di tizi O tizi Che Che ti hai capito Cosa sto dicendo A fine della frase Però non è responsabilità nostra Noi offriamo un contenuto È come il coltello Puoi usarlo per tagliare I friarielli E per accoltellare Tuo zio I friarielli Esatto E accoltellare i friarielli Ok E spalmare la nutella Ma mentre spalmi la nutella Sparia Andiamo avanti Stai spalmando la nutella All'interno di una ferita Che hai provocato Con il coltello Esatto Esatto Junk underscore ciccio Ci scrive Ero all'aeroporto di Dublino Poco fa E ho sentito La segna iniziale Di Power Pizza Podcast 1 1 1 2 2 2 3 3 I pizzettars sono ovunque Spero che tu intenda Che l'abbiano messa Tipo come musica Di sottofondo Tipo nei lounge In aeroporto proprio Sarebbe bellissimo Allora sarebbe un aeroporto Con veramente pochi soldi Perché la canzone Che usiamo all'inizio Si chiama All aboard Ed è una canzone Appunto royalty free Di youtube E boh Sarebbe simpatico Se l'aeroporto Avesse detto Ok potremmo pagare Spotify Ma è tematica Ma è tematica come cosa Tutti a bordo In un aeroporto Sai che Non credo che sia royal Ti farei fuori Da youtube Esatto Infatti ho sempre Paurissima Che tipo ci copy Strike E devo Rieditare Tutte le puntate Togliendo solo L'inizio Lorro Ricordati sempre Che il nostro È un podcast Che va prima su youtube Prima di tutto Wow Giusto Wow si Non ti ricordi Che siamo anche su youtube Ciao ascoltatori Ascoltatrici di youtube Mamma mia Che lupol Incredibile Wow Potete ascoltarci Tra l'altro Anche su spreaker E su tutte le altre piattaforme Ma soprattutto Su youtube MrT Trattino 182 Che penso Che sia un gioco Di parole Che non ho capito Dice Sio Nella puntata precedente Aveva detto Giocate a giorni Così ne parliamo Ebbene Alla fine Non ne ha parlato Hashtag team Delusione Scherzo Vi si vuole Conunque bene Comunque Kenobit Best ospite Forse shadowing Sì forse shadowing Perché ne parlo oggi Scusate che la settimana scorsa È uscito Great Ace a torni Allora Ero preso male Quindi non forse shadowing Ma proprio for shadowing A tutti gli effetti E dato che siamo già In zona di loro up Io ho un grissino Che mi ha Confuso E non capisco Se è una battuta O se è serio Perché Peto per peto Che è un bel nick Ci scrive Che ha visto Suicide Squad È rimasto deluso Da cito testualmente Il film è sicuramente Eccellente e divertente Però mi dispiace Che nessuno Parlando di questo film Citi mai la sottotrama Anti-cubana Gli americani Gli americani sono visti Come gli eroi Che arrivano Dai cattivoni Dittatori comunisti Per esportare La loro sana E perfetta democrazia Uno schifo Di imperialismo Ora Io non capisco Se è una gag Perché il film Dice esattamente Il contrario Cioè nel senso È un mini spoiler Ma che non spoiler A niente del film Ma una cosa Che mi ha stupito Quando l'ho visto È proprio che James Gunn È riuscito a fare Un film Blockbuster E statunitense Dove gli statunitensi Sono i veri cattivi E il motivo Per cui sono appunto A fare la missione Che sono a fare Non è tanto Salvare la gente Ma è pararsi il culo In una maniera Super bieca E quindi non capisco Se abbiamo guardato Lo stesso film Cioè Come hai fatto A trarre Questa conclusione Da The Suicide Squad Sono iper confuso Ma se invece Era una gag Sono io stupido Che non l'ho capita Non so Scrivimelo nel prossimo Come il prossimo Grissino I guess Però se era una gag Scrivi comunque Il contrario Di quello che ha detto Loro Mi raccomando Sono doppiamente confuso Inaspettato E comunque Siamo già entrati Nell'orro up Slash menus Della puntata Yes Direi di sì Quindi Mi direte Che sicuramente Avete visto Il Pokémon Direct Presents Pikachu of Com Sì La settimana scorsa Arseus La leggenda Di Arseus Quello che intendi A parte che hanno parlato I 70 giochi Di Pokémon diversi Però l'unico appunto Di cui mi interessava qualcosa Era Pokémon Legends Arseus Legend Lezeus 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 Avete dato un'occhiata Al trailerino Al trailerone In realtà Che ci dice finalmente Che cavolo si fa In quel gioco Ah sì Wow Che cosa si fa A quel gioco Si catturano Pokémon Si usano i Pokémon Per combattere Contro altri Pokémon Esatto Però gli hanno Slappato addosso La parola Open World Così la gente Si fa la pipì Nei pantaloni Perché gli Open World Piacciono a tutti Continua a non avere senso Per me onestamente Beh a quanto pare funziona Perché ne si parla Di continua Cioè appena è uscito Il nuovo trailer Twitter è impazzito Su questa cosa Ah questo certo Sì sì Ma sì ma perché È finalmente Un piccolo improvement Una piccola modifica Alla diciamo Meccanica classica Del gioco di Pokémon Cioè è letteralmente Il gioco di Pokémon Che ti immagini Nella testa Dopo che giochi Un singolo gioco Di Pokémon Negli anni 90 Dici ah Fra 30 anni Sicuramente ci sarà Un gioco del genere Ma in che maniera È un Cioè nel senso Scusami un attimo Allora correggimi Perché sono veramente curioso A riguardo di questa cosa Cioè Quello che si vede Dal trailer È che comunque Voglio dire Ci sono le battaglie a turni Ok Che a me va benissimo Però cioè Letteralmente è Pokémon Sì Soltanto che Hai questa Sorta di open world Che poi Sarà tutto da vedere Come sarà l'open world Perché sappiamo Che non è che Automaticamente una cosa È open world Allora interessante Vedi la zona selvaggia Di spada e scudo Era una cosa Tristissima Perché era desolata E vuota Questo sembra Solo lievemente migliore E poi la mia domanda è Il fatto che sia un open world Come viene integrato Nella core mechanic Di Pokémon Perché se non so questa cosa Non posso emozionarmi A riguardo Certo Ma infatti la cosa che ho capito io È che L'aspetto Che mi sarei immaginato In un gioco di Pokémon Futuro Nel passato È un po' L'integrazione Proprio con il mondo Nel senso di Tu sei una persona Che è all'interno Di quel mondo E quindi Non è che le battaglie Ti mandano In uno schermo diverso E tra l'altro I Pokémon Possono farti male Cioè Nel senso Se incontri Un Pokémon gigante E tu non fai uscire Uno dei tuoi Pokémon Per esempio Cioè Quel Pokémon lì Ti può uccidere Non uccidere ovviamente Ma ti manda K.O. E poi ti fa Tornare al campo Però insomma Come funziona Nella realtà Giusto Esatto Se vai da un toro E gli tiri uno schiaffo In faccia Questo ti può uccidere Esattamente No ti manda K.O. E qualcuno ti riporta A un centro medico Così che funziona La sanità E ti ritrovi In metà dei soldi Nel portafoglio No però se ci pensi C'è questa cosa Sio È semplicemente Streamlinare Una cosa che esisteva Già prima Cioè se io con un Pokémon Incontravo un Pokémon Più forte Mi mandava K.O. Sai Esaurivo i Pokémon Tornavo indietro Questo semplicemente Salta la cosa del Devo buttare fuori un Pokémon Quindi può attaccare Grettamente il giocatore E nel caso Essere rimandato Cioè nel senso Ci sta che sia Un improvement A livello di Velocità e ritmo del gioco Però poi alla fine Cioè rimane Pokémon Sì E un gioco a turni O comunque per come è stato adesso Un gioco a turni Non capisco Quanto si integrerà Con questa cosa Di un open world A me continua a sembrare Una buzzword Per emozionare la gente Detto questo Sono pronto a rimangiarmi Le mie parole Quando sapremo di più Detto questo Bisogna dire che È un trailer Quindi letteralmente La sua funzione È quella di darti Appena sufficienti informazioni Per crearti un'aspettativa Per poi comprare il gioco E non darti la realtà Delle cose Quindi bisognerà poi vedere Come implementano E come utilizzano Questa cosa giustamente Eh esatto Finché non so quello Non riesco davvero Ad interessarmi Onestamente Anche perché non ho fiducia Nella Game Freak Ma quello assolutamente Ne ho zero In fiducia L'unica cosa Che appunto Mi interessa È che È un gioco di Pokémon Leggermente diverso Finalmente Nel senso Ok sì Questo è vero Perché per esempio Sì c'è la questione Da turni Però I turni non sono Un turno io Un turno te Un turno io Un turno te Come nei giochi classici Ci sono due modalità Un po' come In Bravely Default Più o meno In cui puoi Far attaccare Più velocemente Ma meno forte Oppure Far attaccare Più forte E sprecare più turni Cioè praticamente È un po' più Come Final Fantasy Con la barra Che si carica Ok ok Tra l'altro Quello sarebbe Un game changer Vero Più che altro Perché Pokémon Relia tantissimo Su mosse Che sono setup Per mosse successive Quindi Il fatto di poter attaccare Magari due volte attaccate Quello si Diventa Un enorme cambio A livello di gameplay Esattamente Quindi Cioè semplicemente Cambia tutta una serie di cose Il fatto che sia open world Non me ne può fregare di meno E semplicemente È finalmente Qualcosa Che cambia Da Pokémon Blue Perché da Pokémon Blue In poi Sono stati Tutti lo stesso gioco È vero Tutto qua Sono lukewarm Comunque A proposito No sei lorro Sì scusa Si dice Lucaldo In italiano Invece Parlando di Loro up Ma ancora meglio Di Impizioni Sono uscite Le prime due puntate Di What If Ah Ok Loro Il tuo show preferito Quello che ha l'estetica E l'animazione Che proprio ti aggrada Le hai viste Eh no Non ho veramente interesse Cioè nel senso Ho guardato Suicide Squad Solo perché era di James Gunn Ma veramente Lo sai Cose supereroistiche Cioè credo di essere Veramente Ma se vivessi In un universo In cui lorro Gliene frega qualcosa Esatto No Tu immagino Che te le sia viste No sì assolutamente E mi sono piaciute molto Sono solo le prime due puntate Adesso dovrebbero arrivare a sei Se non sbaglio Ma ho tirato questo numero Fuori dal mio cappello magico Dei dati Quindi non lo so Ma Perché l'hai detto allora Perché Eh boh Mi è venuto in mente Quindi l'ho detto Il bello è perché Nick critica un sacco Quando guarda i film Quei registi Che includono delle cose Che poi Se fossero state Non incluse nel film Avrebbero facilitato la cosa E poi fa la stessa cosa Quando parla delle cose Cioè ho googolato Mentre parlavamo Sono nove episodi Cioè nel senso Dannazione Ah bene Comunque Vedi c'era un sei Era solo girato al contrario Quindi alla fin fine Non ho sbagliato così tanto Ma Quello che volevo dire È che le prime due puntate Sono molto carine Secondo me Premesso che Come avevamo già detto Nella famosa Battaglia verbale Fra Nick e Lorro A me personalmente Quel tipo di animazione Piace tantissimo E mi sta dando soddisfazioni Le prime due puntate Sono Non posso dire belle Posso dire carine Perché si lavorano Su il concetto Del Cosa succederebbe se What if Però È un pochino Specifico Nel senso Cosa succederebbe se In un momento specifico Il personaggio che conosciamo Che ha fatto una cosa Non potesse fare esattamente Quell'azione E quindi fosse la persona Astante A farla E Ok Ok Quindi è soltanto Un po' uno scambio Di personaggi Sembra veramente Poco interessante Detto così Onestamente Per le prime due Però se la premessa È poco interessante Lo svolgimento È invece fatto molto bene Ad esempio Nel primo episodio Che è quello dove c'è Capitan Union Jack Che praticamente È l'agente Carter Che diventa il super soldato E quindi non esiste Capitan America Ma Capitan Gran Bretagna O come si chiami Lo svolgimento Della puntata Parire di cose imperialismo Esatto Lo svolgimento Della storia È fatto molto bene E il personaggio È un pochino Non dico approfondito Però esplorato E secondo me Si prendono ovviamente Essendo animazione Delle libertà Sulle scene d'azione Che mi è piaciuta Tantissimo Quindi Boh Per ora La mia impizione È molto positiva Sapete un'altra cosa Della Disney Che è uscita in questi giorni Di cui non mi frega Assolutamente niente Non so neanche se l'avete visto È uscito il trailer di Star Wars Visions Cosa? Cos'è? Letteralmente L'unica cosa che mi può fregare Di meno delle cose di Marvel Sono le cose di Star Wars Cos'è? Ah ok Niente Credevo che tutto lo fosse visto Vi ricordate Animatrix? Sì Sì Ok perfetto Lo prendo per un no Per come l'avete detto Sì Onestamente Sappiamo che esiste Nel senso che mi ricordo Che dopo Matrix C'è stata questa serie Di Matrix Era un film Non era una serie Allora mi sono sbagliato Era semplicemente Un film fatto di Tanti cortometraggi animati Ambientati nell'universo Di Matrix Stesso discorso Questi saranno Sette studi super pazzi Tipo il studio Trigger Aspetta c'è lo studio Trigger Esattamente E questi sette studi Tireranno fuori Queste nove storie originali Che saranno dei corti Immagino E tutto verrà raccolto Sotto questo nome Star Wars Visions Ora Sapete che A me interesserebbe Un sacco Vedere L'universo di Star Wars Esplorato in una maniera Intelligente O interessante Ma dal trailer Sembra semplicemente Una cosa Spettacolona E basta Che magari Dal punto di vista Dell'animazione Sarà una figata Perché appunto Sono sette studi Della madonna di animazione Però a livello Cioè Mi immagino che A livello di scrittura Saranno un po' Delle minchiate Però Boh Boh Beh l'animazione Comunque mi interessa Un pochino Sarebbe bello Se riuscissero a Fare qualcosa Di interessante Con l'universo Di Star Wars Che è l'universo Più piatto che esista Proprio perché Non è mai stato Esplorato bene Però Boh Sarà questo il caso Probabilmente no Perché me lo sto chiedendo Infatti Perché tu credi Nella fantasia Degli esseri umani Sì sì Ma soprattutto Non lo so Penso di capire Finalmente Che cosa provi Per esempio Quando ti parlo di smash Perché Star Wars È proprio una parola Che la sento E sento il mio interesse Fare Sì 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 Proprio abbassarsi Ma anch'io Cioè A me ormai interessa Parlarne Per quello che rappresenta A livello di mercato Di immaginario popolare Per carità Immaginario popolare Esiste come termine Immaginario collettivo Dipende Se è popolare Sì Però C'è di Star Wars In sé Sì È riuscita A uccidere l'interesse Anche chi Prima amava Star Wars Quindi vabbè Passiamo oltre Scusate Mi sto deprimendo Eppure ha creato interesse In persone Che non lo conoscevano Prima E di conseguenza Tipo adesso Hanno altri anni Come sempre Mamma Disney Sa fare questa cosa Del capitalismo bene Mamma Disney Chi scusa Mamma di chi Esattamente Per Dei soldi A quanto pare Del profitto Del guadagno Disney is not My mamma Zero La mamma È sempre la mamma No però Cioè nel senso Lo sa fare bene Sa creare interesse In cose Su cui può capitalizzare Di nuovo Tipo il prossimo episodio Di What If Il ragno Di Spider-Man Fosse stato un metro Più in là E avesse morso Il muro Avesse morso L'assistente di laboratorio Jimmy Jones Sarebbe tutto uguale Solo che L'uomo random Si chiamerebbe Jimmy Jones È uscito anche Un trailer super pazzo Di un gioco Che gira su Unreal Engine 5 Se non l'avete visto Non sto a dilungarmi Ma trovate il link Nello scontrino dell'episodio È folle Come si chiama? Esatto Black Myth Wukong È un gioco cinese Su Immagino il mito Dello scimmiotto di pietra Sai coso Sembra molto bello Lui E Nite Cioè letteralmente Sono Boh tipo 15 minuti In game Non ha senso A livello grafico Cioè è follia completa Ci sono degli effetti Neanche degli effetti Particellari La fisica Di alcuni oggetti Che Cioè è completamente Delirante È bello Anche solo da vedere Poi non so Cosa ci faranno Ovviamente Gli sviluppatori Quando creeranno Dei giochi Con questi motori grafici Ma da vedere è impressionante Ne ho visto un pezzettino Ma è playstation 5 Giusto? Non lo so su che cosa Cacchio uscirà questo Cosa Ho guardato solo questa Non posso chiamare Tech demo Perché è letteralmente In game Dannazione Però sì Quei trailer di questo giocone qua È Fine della cosa Sembra molto bello Esteticamente è follia pura Io lo sto guardando C'è un uccello Con una faccia umana E quindi lo odio Ok È una ragione legittima Lo odio Non voglio mai più sentire parlare Di nulla di questa cosa Sarà fatto sì Non ne parleremo mai più Scusa per averlo fatto Questa prima e unica volta Mi stai ancora parlando Basta Sto parlando del mio dispiacere Per averti deluso Ok ok Comunque Creiamo il contrario Della delusione Ok Il contrario della delusione È la felicità Non è vero Sì Sì perfetto Allora è vero Bene bravo Nick Ma soprattutto Perché vorrei parlarvi Il contrario della delusione È tipo la soddisfazione Sto dando corda a Nick Scusa Dammi della corda anche tu L'ho finita Esatto Cancellerò questa frase Andate avanti No e C'è una cosa Che ho visto recentemente Di cui vorrei parlarvi Che parla di felicità In una maniera un pochino strana No io odio la felicità Poi avete mai sentito parlare Di un film Che si chiama Little Joe No conosco Little Mac Un fighter di smash Beh beh non è lui Little Joe è un film Del 2019 Che trovate comodamente Su Amazon Prime Video Io l'ho trovato a caso Perché ha una bella copertina E quindi mesi fa Me l'ero messo tipo in Lista delle cose da guardare E l'altra sera Colpito dal terribile Raffreddore post viaggini Oh no Ho detto Guardiamoci questo film Finalmente Sono a casa da solo Se anche è brutto Martina non mi può tipo Mordere la faccia Bene Little Joe è un film Che narra la storia Di una ricercatrice Che crea delle piante Io ho sempre la domanda Prima di tu che pari delle cose Sarà una recensione Spoiler free O spoiler spoiler Siccome me la sono preparata Completamente spoiler free Ok Metto Pochi spoiler Cento per cento E non dirò neanche Che è autoconclusivo Tu vorrebbe essere È un film autoconclusivo Narra la storia Di una ricercatrice Che sta cercando Di sviluppare una pianta Che quindi fa degli incroci Genetici Fa vari fiori Per creare un fiore Che abbia L'obiettivo Di rendere le persone felici Ok Attraverso il suo polline Il suo odore Non esiste già Si chiama oppio Scappa pavero da oppio Sì ma non altro Eh sì però C'è una macchinazione strana Tra il fiore e la felicità Ah Mentre invece in questo caso Dovrebbe essere una cosa Che tu hai questo fiore In un vasetto Lo annusi E sei felice Perché dovrebbe aiutare il corpo A sviluppare due cose Ossia L'ossitocina E le endorfine Ok Riesce nel suo obiettivo Di unire centomila fiori magici Eccetera Per creare questa cosa È quasi pronta a presentarlo A una fiera dei fiori Che a quanto pare È super importante In cui bisogna Ah Look of flowers and games Esatto Look of flowers and stems Sì sì scusa Bene Non c'è null'altro da dire Se non che C'è qualcosa Che va storto Ok E da quello Si sviluppa la trama Di tutto il film Motherfuckers Ho una domanda Endorfine ok Ma ossitocina Non è tipo una roba Che c'entra con Tipo il parto Roba del genere No me lo sto sognando io Beh sì anche No no C'entra con il rapporto Fra madre e creatura Che ha partorito Ok Sì è un po' L'ormone dell'amore Quindi sì C'entra anche con il parto E con varie regolazioni Tra madre e figlio E cose così Ok Mi ricordavo che C'entrassero i bambini In qualche maniera Ma non sapevo come Quando sei innamorato Quella cosa Ti rilascia Ossitocina sostanzialmente Quella sensazione Ineffabile Dell'amore Ok Perfetto Allora Non voglio raccontarvi Null'altro del film Però voglio raccontarvi Un paio di cose Del perché sono rimasto Occhi sbarrati Sgranatissimi Davanti Esatto esatto Cattura il nostro interesse Con dei dettagli sul film Per ora Per ora hai due punti di interesse Su dieci Di me Wow wow Bene E' uno dei film Per me ne hai sette Su venti Per me devi far Mi devi far parlare No Non siamo più abituati Averti in puntata A sentirti parlare Ci viene solo da interromper Esatto Wow Che schifo Fare i podcast con noi Allora E' uno dei film Che crea più ansia Che io abbia mai visto Ma del tipo Cioè Una cosa che ti Veramente ti rapisce E vivi Tutta Tutto questo film Con una tensione Mostruosa 8 punti Interesse Sì Bene Bene Ha una bellissima copertina Perché si sviluppa Cioè La maggior parte del film Si sviluppa All'interno di un laboratorio Scusate Io Non farò mai più recensioni Dalla zona Prego Parteci Ma a favore Pizzo Il nostro podcast Scusate Mi muto Scusate Andate avanti Vabbè Comunque Se la maggior parte Di questo film Si sviluppa All'interno di un laboratorio Che è una serra Asettica E tra l'altro Molto poco colorate Ci sono questi fiori Rossi Accesissimi E Già solo quello Dà un'idea Di quanta Attenzione È stata messa Nel comparto grafico Nel comparto visivo E tra l'altro Io vorrei abbracciare Tutte le persone Che hanno lavorato Sia alla produzione Che ai costumi Che alla direzione Della fotografia Perché questo film Esteticamente È di una bellezza Inenarrabile 10 punti interesse Ha una scelta Di colori Di atmosfere Di luci Che sono veramente Pazzesche Nonostante il film Sia il contrario Di un blockbusterone Nel senso È lentissimo Meno due punti interesse I dialoghi Vengono lasciate Delle pause Incredibilmente lunghe All'interno dei dialoghi All'interno delle scene Che ti creano Un'ansia incredibile In più con il fatto Che hanno scelto Delle tecniche di regia Per le quali Ogni scena È Man mano Un pochettino Più zoomata 10 punti interesse Subito Cioè per Diventa progressivamente Più claustrofobico In quel senso No 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 È che ogni scena Ha un pelo di movimento Quindi dall'inizio Alla fine della scena Magari si zooma Del 2% Però ha quella Quella questione Insieme alla lunghezza E diciamo tipo Alla lentezza del film Che continua a farti Crescere quest'ansia Del sta per succedere qualcosa Sta per succedere qualcosa E poi passa Un'altra scena lenta È incredibile E più 2 punti interesse Perché se è lento Perché si prende il tempo Per costruire l'atmosfera È una cosa che mi piace un sacco Same Assolutamente sì E in più Nota di supermerito Cuoricini dorati Adesivi della bravura La colonna sonora Si basa su Della musica kabuki giapponese Con tipo Dei suoni Molto dissonanti Oltre a Tamburi E taiko E appunto Strumenti classici Della musica kabuki Ci sono anche tipo Delle seghe Che vengono suonate Dei violini scordati Ci sono dei cani Che abbagliano Non penso che possano Essere altro Se non una serie di cani Che abbagliano Ok La musica effettivamente C'era anche nel trailer Ed era Iper unsettling Come cosa Madonna Comunque Mega ansia Non è La rivoluzione Delle cose Però è una visione È una visione consigliatissima È veramente un film Ben fatto Cioè Wow Bravi Da una premessa strana Cioè tipo Cosa può succedere Se crei un fiore Che ha l'obiettivo Di creare la felicità Nelle persone E che cosa Può andare storto È assurdo Vi prego Se ne avete voglia Avete bisogno Di un po' di ansia Fresca Nella vostra vita È proprio quello Di cui ho bisogno Ne vale tantissimo La pena Ok 13 punti interesse Totali su 20 È più del 50% Quindi la considero Una vittoria Ma non erano 10 prima No la mia era su 20 Quello di sì Era su 10 Ok perfetto Io invece 10 punti interesse Su 10 Perché ha detto Rosso a un certo punto Che è un colore Che mi fa impazzire Come i tori Rosso 10 punti interesse E soprattutto C'è Baby Elton John Kit Connor Uno degli attori Il ragazzino Che faceva Elton John Da piccolo In Rocketman Ah ok Bravo bambino Elton John Mi stai simpatico Comunque Little Joe Si becca 8 fette di pizza È una marinara Con sopra Dei fiori edibili Dei fiori edibili Solo che sono tutti rossi Quindi non li vedi Quindi non capisci Però mentre la mangi Dici tipo Ah dei fiori Come mi sento felice E inizi tipo A sbroccare Ah quindi erano Allucinogeni Effettivamente Quei fiori Alla fine sì Ok ok Che buoni i fiori Benissimo Io ho una roba Di cui vi vorrei parlare Alla fine Perché No Anch'io Maledipo Aspetta allora Dobbiamo fare una gara Di decidere Gara di fine Ok La mia è super breve Ed è perfetta Come dolcetto A fine puntata Vai Sio Ok allora fai un dolcetto A fine puntata No perché sostanzialmente Vorrei parlarvi di giorni Allora dobbiamo mettere Un attimo Uno spoiler horn Perché Non c'è bisogno Che lo rifagli ogni volta Letteralmente Tolgo quello che hai fatto Adesso e metto Il suono che mi sono salvato Smettila Per saltare gli spoilerini Andate al minuto 45 e 50 secondi Perché Non parlerò di spoiler grandi Ma secondo me È molto importante Far sperimentare A chiunque voglia giocarlo Journey Il videogioco Completamente al buio Cioè proprio Sono d'accordone Sì Vero Vi do solo Il consiglio di giocarlo E da adesso in poi Ne parlo Non ve lo spoilerò tanto Però Qualcosina vi dico E quindi Vi consiglio di Pausa Andate a giocarvelo Dura 2-3 ore Sì Tornate qua E poi ne parliamo Wow Non l'avrei visto Come un gioco da CEO Ma sono contento Che tu l'abbia giocato Perché sono certo Che la tua sensibilità Te l'abbia fatto apprezzare Ma tutti e due Voi l'avete giocato? Yep No Ah scusa Però a Melbourne Ho conosciuto uno dei Lead animator Di Jeremy Dobba E comunque Sì L'ho giocato più di una volta Ed è molto molto bello Dove l'hai giocato? Esatto Su iOS Sul mio iPadone Lì ti volevo 11 pollici Bravo Perché bravo? Eh no Perché non ero sicuro Che si potesse giocare su iOS Quindi ho detto Adesso chiedo a CEO Vediamo se lui dice questa cosa Perché me la ricordavo Ed era corretto Ah ok Ok Perché è un gioco sviluppato Originariamente per il PS3 È uscito nel 2012 E poi però è uscito anche su PS4 Windows e iOS Quindi cioè Potete giocarlo un po' ovunque È un peccato che non ci sia su Switch Sì è un po' un peccato Però insomma Death Game Company Spesso fa delle esclusive con Sony Comunque sono amichetti Ci sta Tra l'altro un po' di tempo fa Era in offerta su iOS E me lo sono comprato su iPad Perché ho sempre pensato di volerlo giocare E non mi sono mai fatto spoilerare niente Sono riuscito a evitare tutti gli spoiler per anni Nice Anch'io la prima volta che ci ho giocato Cioè ho avuto la stessa esperienza Cioè non mi ero mai interessato E quindi ci sono arrivato super vergine E me lo sono goduto il doppio in questa maniera Io invece ero super interessato Tanto che un giorno ho detto Boh adesso mi compro una PS3 per giocarci Poi per fortuna è uscito per anche altre cose Così potresti giocare a Demon's Souls Anche su PS5 Però aspetta PS5 è più difficile da procurare Vabbè Comunque Mi lo sono comprato Era in offerta Due anni dopo non l'avevo ancora giocato Esce una puntata di Suona Tipo Bene Il famoso podcast di Fabio.com Su Power Pizza non menzioniamo Suona Tipo Bene Allora bippalo Esatto Comunque è uscita un anno fa quella puntata Appunto Appunto Fabio mi dice L'hai ascoltata? Non ho mai giocato a giorni Gli dico Allora gioca prima a giorni Ascolta E poi dimme Come sai Lui è romano È fuori Magico Magico Romo Taglie Romolo Un anno dopo Fabio Hai ascoltato la puntata Non ancora Giuro che gioco a giorni E finalmente nel viaggio di ritorno da Lanzarote Mio figlio era stanchissimo Perché potremmo aver dovuto prendere un aereo extra E allungare di varie ore il viaggio Perché siamo stupidi Ah è per quello Cioè nel senso eri in una journey È per quello che hai perso il volo Era per avere più tempo per giocare a journey Sì Proprio è per quello Inoltre odio i soldi Nel frattempo sto pensando tipo Sì ho stravolto E stanchissimo Mentre lo dobbiamo abbandonare in aeroporto Era proprio nel mood giusto Saper giocare a journey Almeno avevo appunto Su un aereo senza cose da fare E l'iPad senza internet Avevo già installato journey sopra Quindi occasione perfetta E mi sono giocato la prima metà Di sto gioco stranissimo Perché journey è un'esperienza unica Io amo tutto ciò che spinge i limiti Di cosa può essere quel linguaggio In questo caso quello dei videogiochi Cioè in journey hai pochissimi comandi È un platform Tecnicamente Nel senso che va in giro Ma non lo definirei platform Ma infatti non è un gioco d'avventura proprio No 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 Però diciamo È un walking simulator Con dei puzzle semplici Sì sì Cioè con uno stick ti muovi Con l'altro muovi la telecamera Con un pulsante fai Oh scusa Floating simulator My bad Giusto E con un altro salty Slash Plani eccetera Fine Basta Cioè sei un tizio Stilizzato con un mantello E una sciarpetta Sei su una duna di sabbia E vedi in lontananza All'inizio del gioco No una montagna Con una luce E così fai la cosa Che ti viene naturale fare Andare verso la montagna In tutto il gioco Non c'è mezza riga di testo Di spiegazione Non c'è niente che non sia visuale Show don't tell Grazie Gesù Mamma mia Questo gioco è veramente Narrativa ambientale Al suo finest Mamma mia Le meccaniche sono semplicissime Praticamente L'unica cosa che sblocchi Interagendo con l'ambiente Sono dei power up Tra virgolette Della sciarpa Tipo il fucile Il bazooka L'astronave La giornata I due Attack of the sand E power up Della sciarpa Ok Che ti permettono Di volare Per un brevissimo periodo Ma in più Aggiungono bellezza Perché è tutto Svolazzante In questo gioco No è un gioco Semplicemente Bellissimo Nel senso che vuole Farti davvero Provare delle emozioni Attraverso la bellezza Sì Cioè Ci sono dei momenti In cui ci sono Delle inquadrature Di tramonti Con la musica Mentre tu scivoli Sulla sabbia Che il tuo cervello Può mettere tranquillamente Nella categoria Ricordi di bei tramonti In luoghi Della vita reale Perché sono talmente Dei momenti belli Che vi fa Veramente attraversare Tutte le emozioni Dell'universo Senza spiaccicare Mezza parola Anche la rabbia Furibonda Sì Soprattutto quella Che nel mio caso Perché dopo Vi spiego Cosa è successo E tra l'altro La musica È stata la prima volta Che la musica Di un videogioco È stata nominata Agli Emmy Perché se non potete Giocare questo gioco Con la musica Non giocateci Secondo me No sì No non ha senso Cioè questo gioco È per metà Anzi per il 60% La sua atmosfera Sì no infatti Senza musica Non ha senso Io mi sono scritto 70% musica E in più C'è una roba pazzesca Non sono a conoscenza Di questa meccanica In nessun altro gioco Correggetemi se sbaglio Ma se giochi A giorni connesso A internet Ah sì Un gioco non te lo dice Che c'è questa possibilità Yes Bellissimo Ma può essere Che trovi un'altra persona Che lo stia giocando E che è più o meno Lo stesso punto tuo Del gioco E improvvisamente Hai un compagno di viaggio E vuoi sapere La cosa assurda Io la prima volta Che l'ho giocato Non avevo idea Dell'esistenza Di questa meccanica E credevo Che fossero Degli NPC Quelli che incontravo Per strada Oh certo Solo alla fine Mi sono reso conto Che erano altre persone Che stavano giocando Come me In quell'esatto momento E emotivamente È una cosa Che guadagna Molto più spessore Super bella E super bello Non saperlo prima Sì sì Infatti Quella è la cosa bellissima Cioè puoi perfino Fare l'intero gioco insieme Se siete abbastanza affiatati E non puoi interagire Se non facendo il tuo suonino E muovendoti Perché appunto Puoi solo fare un suono Che non serve a niente Quasi È tutto così bellissimo L'unico lato negativo Rabbia furibonda Loro Wow Nella versione Che ho giocato io C'era un bug Dannazione Come? Quando sono arrivato A circa 30 minuti Dalla fine del gioco Questo non è uno spoiler Però se sapete Se ci avete giocato Diciamo In una zona In cui inizia a tirare Un sacco di vento Ah sì 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 Ok C'era una porta E bisognava Passare da quella porta Ma c'era un vento Che non smetteva di soffiare Tra l'altro In quel momento Avevo trovato un amichetto E ero contentissimo Perché la prima metà Del gioco Questa era l'unica cosa Che purtroppo Avevo spoilerata Dall'internet E cioè Sapevo che potevo incontrare Delle altre persone Ovviamente Giocando la prima metà Su un aereo Non connesso a internet Chiaramente non incontrato nessuno Ma giocando la seconda metà Dall'internet Della campagna Comunque ho trovato qualcuno Bellissimo Ho detto Andiamo a fare Il viaggetto insieme Solo che Appunto Sta porta qua Vento che non smette di soffiare Dico Boh È un enigma È qualcosa Cerco di capire Il tizio tra l'altro Va avanti E si gira indietro E dice Perché non stai passando Da questa porta Quindi Boh Faccio dei giri Assurdi Torno indietro Il tizio tra l'altro Mi segue Dice Va bene Andiamo insieme Però non trovo Nessuna soluzione Quindi andando Contro ai miei principi Di non spoilerarmi niente Ho messo da parte L'iPad Per cercare una soluzione Dopo un po' L'amico che avevo incontrato Nel gioco Se n'è andato E il bug non c'era più E quindi Era un bug Con questa porta qua Se la attraversavo Con qualcun altro Hai provato a googolare Questa cosa? Cioè è un bug Ho trovato delle altre persone Che avevano Bug di vento infinito Sì Ah ok perfetto Perché se no Non mi sarei fidato Del tuo parere E avrei pensato Che eri un buggiano tu E avrei trascurato qualcosa Se invece è un bug Riconosciuto Invece era un buggano Mi disp No proprio Cioè ci ho passato veramente Tre quarti d'ora lì Quindi è la porta Della solitudine Eterna Della rabbia Esatto Non puoi goderti Il gioco in compagnia Se vuoi attraversare Quella porta Tra l'altro È stato l'unico momento Che mi ha un po' Rovinato l'esperienza Mi ha catapultato fuori Dall'immersione Cioè mi ha ricordato Di essere in un videogioco Che può avere dei bang E a parte quello Da giocare Punto Tra l'altro Gioco fatto per essere rigiocato No l'orro Perché mi hai detto l'orro Come se ti assettassi Che dicessi qualcosa di importante Esatto Cosa vuol dire gioco fatto per essere giocato Fatto per essere rigiocato Sì 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 Sono d'accordo Cioè è breve Quindi è piacevole anche rigiocarlo Ma che cosa devo dire A riguardo No 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 Perché c'è un altro elemento importante Nel senso che cambiano alcune cose Esatto Non ve le spoilerò qua Ah non mi ricordavo assolutamente Questa cosa Wow Per quello non capivo Delle piccolissime cose Che però ti fanno capire Diciamo alcune altre parti della storia Che ti avevano solo fatto intuire Nella primo playthrough sostanzialmente Ok Beh è come se sentissi questa cosa Per la prima volta Buono a sapersi bene Veramente nove fette di pizza al gioco Pizza della casa Cioè tu ordini la pizza E ti fai fare la pizza dalla pizzeria Ti fidi Perché sono bravi Vuoi fare una pizza noiosa O vuoi fare una pizza Nick Non vuoi una nove fette di pizza Con sopra la sabbia Bravo Sopra ci sono i chiodi e la coca cola Esatto No era una parodia Non stavo dicendo sul serio Nick Smettila di dirmi bravo Dannazione Esatto Ora sì che mi sento welcomed Sono tornato a casa Tra l'altro do otto fette di pizza Alla versione ipad Senza controller Perché la versione ipad La potete giocare con un controller E si mantiene le otto fette Ma io l'ho giocata come uno stupido Con i controlli touch E devo dire che Che schifo Boh ho detto Ma sì dai Figurati Giorni Non è necessario Avere un controller No Tutto con i controller touch È sempre peggio È sempre meglio Di avere un controller Non è necessario avere un controller Mamma mia Sempre 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 Ma poi tra l'altro Dall'uomo dei joycon Cioè nel senso Pensavo che tu avessi paura A non usare un controller Per azionare qualunque cosa Quindi È vero Sì Non ho nessuna giustificazione Ho provato a giocarlo Senza un controller È stata un'idea brutta Per fortuna il gioco Era comunque bello E quindi È stato bello lo stesso A parte quello Stupido bug Dolcetto Dolcetto Ah buona questa pizza Prendete un dolce voi Sì Prendetene uno grosso Usa quel coltello Per spalmare la nutella Cameriere Cento tiramisù Un profiterol Però ogni palla Del profiterol È grossa Come un pallone Da calcio Wow Sono cento Palloni di profiterol No non così tanto Solo un pallone Da profiterol Enorme Wow Che scomodità Allora nell'ultimo After Show Se tutto va bene Qualcuno aveva scritto In chat Ehi guardate Brooklyn Nine-Nine E io avevo detto No E invece sì È molto bello Io avevo parlato Di Brooklyn Nine-Nine Eh ma qualcuno In chat Forse era antia Non mi ricordo Qualcuno ce l'aveva chiesto Vabbè Fatto sta che In una settimana Mi sono guardato Un'intera stagione Cosa che io non faccio Praticamente mai Sono episodi da 20 minuti Vabbè E cioè Possiamo definirlo Una sitcom A tutti gli effetti Brooklyn Nine-Nine Credo Sono spesso in piedi Sai cosa vuol dire sitcom Vero Nick Comunque Amo Brooklyn Nine-Nine Fortissimo No È super piacevole Anche perché appunto L'unica altra scoperta Tra virgolette Io arrivo sempre tardi Sulle cose Degli ultimi anni Per me era stato The Office Però The Office È una cosa Un po' Diversa Perché L'ho detto E lo ripeto Diventa più sitcom Però è scritto davvero bene Ed è qualcosa di più Brooklyn Nine-Nine È solo una sitcom Fatta stra bene Io ne avevo guardati Un paio di episodi E poi Boh avevo detto Si simpatica Ma niente di che Ne ho guardato il terzo Non so perché Ha cliccato qualcosa E mi sono bevuto Tutto il resto Della prima stagione E adesso sono Tipo nei primi Della seconda stagione Yes Bellissimo Cioè è una cazzatona Però è bello Funziona incredibilmente bene È esageratamente wholesome Senza però essere Smielato E senza perdere il suo edge Cioè è comunque divertente È sbagliato Quando deve essere sbagliato Ma è anche incredibilmente wholesome Casomai non conoscesse la premessa È questo distretto New Yorkese Di polizia In cui ci sono degli agenti Appunto un Non un commissario Che cacchio è Holt Come si dice in italiano? È il capitano Holt Sì capitano Oh capitano Perfetto Giusto E fondamentalmente A parte il capitano Che è questo tizio fantastico Completamente mono-espressivo Best personaggio Che è diventato il mio animale Totem Istantaneamente Gli altri sono fondamentalmente Degli imbecilli Non incapaci Sono dei poliziotti competenti Per esempio Il protagonista Tra virgolette Andy Samberg Quello dei Lonely Island Che è un cretino Iper falstioso Rumorosissimo Però è anche tipo Il miglior detective Del distretto Però appunto C'è questo distretto Di fondamentalmente imbecilli Capitanati da questo tizio Super serissimo E poi si creano Delle dinamiche Super belle Tra di loro Gli episodi ovviamente Sono come Una cosa Quindi non serve Non serve che vi guardiate Uno dietro l'altro Cioè potete guardarne Letteralmente un episodio a caso E funziona E funziona nella stessa maniera È bello Funziona bene Mi piace Non botto gli attori C'è Terry Crews Non si può Non amare Terry Crews Esatto Si chiama Terry Anche nel telefilm Ma si anche perché Terry Crews Fa sempre Terry Crews Cioè nel senso Giusto in Training Day Faceva tipo Il tizio grosso E cattivo Cioè se no Di solito Terry Crews È solo il tizio A cui vorresti dare Tipo una facchetta Sulla spalla E poi Niente È proprio piacevole È divertente Semplice Ma Incredibilmente efficace Tra l'altro Ha una cifra umoristica Estremamente originale Secondo me E molto Verissimo Molto riconoscibile Sì A me fa molto ridere Brooklyn Nine-Nine Cioè Io sono all'inizio Della terza serie Ma ogni tanto Ne guardo un po' Di episodi Dico ma perché Ho smesso di guardarlo E dico wow È bellissimo Poi in questo periodo Avevo proprio bisogno Di una di quelle cose Sai solo tipo Feels good Sì E questo è perfetto Perché letteralmente Cioè Non mi pesa Guardarne un episodio Perché sono Cioè Sono quelle cose In cui puoi Non dico staccare il cervello Perché è brutto Non è vero Però te le puoi guardare Così in maniera Molto rilassona E appunto Con il fatto che È molto divertente È comunque Molto wholesome Perché nel senso Sembra ogni tanto Cadere in certi Cliché Sai che di solito Sono il Culo della battuta Invece tipo In questo caso Viene ribaltata la cosa Tipo per esempio Tu si o mi dicevi Uno dei personaggi Che ti piacciono di più È Charles Boyle Che questo tizio È tipo Super allegro Super positivo Che in un'altra serie Sarebbe quello che tipo Viene preso in giro Da tutti E qua no Cioè sì Tutti lo prendono in giro Ma tipo tutti Gli vogliono bene Ed è una parte integrante Del team Non so Il comandante Holt È gay Ma c'è nel senso Fine C'è nel senso Non è che c'è Lo descrive in una Qualsiasi altra maniera Semplicemente Ah no Ok aspetta Tranne una cosa È gay E su un marito Si chiama Kevin Costner Sono scritto Lievemente diverso Non avevo mai notato Questa cosa Wow Non mi ricordavo Però cioè A parte queste cose Cioè nel senso Ci sono tutte delle cose Che in un'altra serie Potrebbero diventare L'oggetto di una battuta E qua no Semplicemente sono Così fine Voglio dire E i personaggi Sono scritti bene Esatto Io voglio bene Appunto come tu dicevi Tra l'altro Ogni personaggio Ha delle caratteristiche Estremamente caricaturali Sì 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 Tipo Rosa Che è sempre arrabbiatissima Gina forse Più di Gina Alle saperetti Bene incredibile Che è l'unica persona Veramente orribile Del distretto Tipo la segretaria Ma è una persona Egotica Tipo terribile Che però fa super ridere Ti prego Loro Quando arrivi La terza puntata Della terza stagione Ok C'è il finale Con Gina Scrivimi o chiamami Perché voglio parlartene È bellissimo Ah dimenticavo Gina fa parte Di una crew di ballo Che si chiama Florgasm Ok Che non fa ridere Ma fa ridere Scusate Sì è tutto così Tra l'altro La densità di jokes In Brooklyn Nine-Nine Madonna Quella è la cosa E tantissimo Di questa cosa È sulle spalle Di Andy Seinberg Che ha una velocità Tipo proprio di Delivery Delle proprie battute Cioè è tutto così Denso e veloce Ma di un veloce Gestito bene Cioè non è quel Veloce irrespirabile A che ne so Ghostbusters 2016 Dove letteralmente I joke non hanno Il tempo di respirare E quindi diventa Una schifezza No qua È semplicemente Un ritmo Incredibilmente Incalzante Ma sempre che Fa quello che deve fare Tra l'altro Vi posso anche dire Che è una serie Che potete guardare Anche non guardandola Attivamente Perché io ad esempio Non penso di aver mai visto Un episodio di Brooklyn Nine-Nine Dall'inizio alla fine Senza distogliere Gli occhi della tv Ma semplicemente Perché in casa classico A Melbourne Era la colonna sonora Del living room Nel senso che c'era Sempre Brooklyn Nine-Nine Che andava avanti E tutti facevano cose Cucinavi Mangiavi E intanto continuavamo A guardare Ne abbiamo guardate così Cinque stagioni E io mi ricordo Le cose di queste stagioni E morivo dal ridere O singole gag Sì Ma morivo dal ridere Di continuo Anche senza dover stare lì A guardare le cose Cioè È scritto talmente bene Che ti arrivano le cose sempre No poi più che altro Allora io sono sempre pro Comunque guardare le cose Anche tipo Tra virgolette distrattamente Ma guardarle Non tenerle lì sottofondo Però effettivamente Devo riconoscere Che questa serie Funziona anche in quel caso Tra l'altro Una cosa che notavo C'è pieno di cameo Di facce note Altri attori O personalità varie assortite Però tipo Non è tanto sottolineata la cosa Quindi se non conosci la persona Può essere che ti perdi anche il cameo Sì E se invece tipo Li conosci Ci fai caso Tipo che ne so C'era Crittenden In quella che ho guardato ieri Che è il tizio di Armontown Il master Il dungeon master di Armontown Cosa? Che semplicemente era un personaggio Così che passava C'era in una scena E ho detto Oh Crittenden Che figata E questa cosa succede In un sacco di volte Ma infatti tra l'altro Ogni tanto So che il Il telefilm mi sta dicendo Questo è un cameo Ma siccome io non conosco Quasi nessuno Dico I guess Eh ma non è sempre Sottolineata come cosa È quello che mi diverte Comunque no Davvero È la cosa di cui avevo bisogno In questo momento Cioè una cosa Easy e piacevole Da vedere E appunto con quella Vena di Buoni sentimenti Ma non Cioè Una cosa stucchevole E quindi Boh Per me si becca Oddio Sì dai al diavolo Nove fette di pizza Di una salame piccante E patatine fritte Perché è proprio Cioè nel senso La cosa semplicemente Che ti fa stare bene E ti intrattiene Nice Bellissimo Ma tra l'altro Sto guardando adesso Ci sono tipo 150 punti Sto guardate Wow 8 stagioni Eh ma sì Sono un botto di stagioni E continuano a farlo Speriamo che sia bello Anche andando avanti Tra l'altro Per la cosa dei cameo Ho letteralmente aperto Adesso la pagina IMDB E la prima foto È l'immanuo Il miranda In manette Quindi Immagino che Sì questa cosa Vada avanti Tra l'altro Grazie Nick Per il commento Di continuano a farla Perché è appena finita Cioè tipo 10 giorni fa Launchava stagione Quella conclusiva Probabilmente È dei reality Bending Che c'è tipo La realtà Si adatta A quello che dici Ma tipo Al contrario Esatto Un pochino Sbagliato Sì Mi sembrava Di aver visto Che non era finita Però Ho chiuso gli occhi La pagina di Wikipedia È cambiata Quando Nick Ha detto quella frase E adesso esiste Una stagione finale Di Brooklyn Nine-Nine Wow Vabbè Comunque Puntata Positivona Madonna Bello Ci è piaciuto Tutto oggi Sapete a me Cosa piace particolarmente Ricevere Dei soldi Ogni mese E per questo Devo ringraziare Oltre alle persone Che ci ascoltano Ogni settimana Su www.powerpizza.it E su YouTube Devo ringraziare Le persone Che ci supportano Su Patreon Specialmente Le persone Ogni volta Voglio sia fargli Dei complimenti Che insultarli Che non sa mai Come bilanciare la cosa Non insultarli Smettila Sono tutte Delle persone belle Quei pazzi Scriteriati Ma lo dico Con il sorriso Dei calzoni Ma è un insulto Quindi grazie A Ammazza che H E a Come porti i capelli Belsio Tu li porti Alla loro marinara Tu li porti Come Nick Come tempo In mezzo al mar Che era tempo Che mi ha fatto cantare Una canzoncina Grazie E me l'aveva fatto Sospettare Come tempo In mezzo al mar Alla fine Effettivamente Ottimo indizio Gabriele The King of Cats Grazie Stefano Per avermi invitato In vacanza Tra parentesi Paolo Lobos Hitan Kitsch La botte piccola Di Padova Nardaz E il ritorno Di Nicky e Maesha Paolini Subramania Welcome back Welcome back Once upon a Sam E il Nick Fantasma Sara Oswin Che tornerà con i nomi buffi Dopo le ferie Quanto durano le ferie Di Sara Oswin Scusatemi Quanto pare almeno Tre settimane Thomas Franco E Psycholite L'ho detta come tempo Grazie Calzoni Grazie mille Grazie a voi Che ci avete ascoltato Anche oggi Come sempre Come l'ho detto Anche prima Ma lo ripeto Perché è importante Ribadire il concetto Su www.powerpizza.it Potete anche seguirci Da altre parti Tipo su Instagram At powerpizza podcast 111 222 333 Oppure su Twitch www.powerpizza.stream Seguitici su Twitch Dove giochiamo ai videogiochi E a volte Chiacchieriamo le cose Sì Dobbiamo trovare un modo Per ritornare a fare Gli streaming In tre Dannazione Sì Assolutamente Troppo la cosa più bella Del mondo Tipo metterci d'accordo E farlo Sì Ma poi non facciamo Questa cosa Se solo potesse tornare La zona rossa E il lockdown Ah Belli erano Quei tempi Che bei momenti Noi stiamo in te Regà ce l'abbiamo Tipo due ore Alla settimana Sì esatto Però non ci mettiamo D'accordo Ah è vero Abbiamo fatto Cosa segreta Però in questi ultimi mesi Potremmo sostituire Cosa segreta Con Twitch Adesso che forse Abbiamo concluso Sì da metà settembre Saremo più Sì non puoi dire Che abbiamo fatto Una cosa segreta Stai zitto Scusa giusto Non abbiamo fatto niente Siamo solo pigri Bravo Esatto Quindi se volete Continuare a sentirci Essere pigri Seguiteci nell'after show Power Pizzette E per tutte le pizzette Non power Ma pizzette power Nei nostri cuori comunque Sì A settimana prossima Con un nuovo episodio Power Pizza Dall'orro è tutto Pizza e chiudo Ciao Dall'orro è tutto Pizza e chiudo Ah E messaggio Non assolutamente Registrato dopo Per dire Grazie a Samu Per la sigla di questa settimana Pizza e chiudo Davvero A power pizza Dall'orro è tutto Un podcast veramente bellissimo Guarda ve lo consiglio proprio Punto com Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti